Ciao e bentornata sul nostro canale. Oggi ti vogliamo raccontare un po' la storia del nostro negozio, del Consul Store Lagrast, un negozio a Bari e online di moda sostenibile. Siamo Sabine e Francesco, una coppia, e da un po' di anni abbiamo incominciato a cambiare il nostro atteggiamento rispetto all'acquisto, all'acquisto in generale. Abbiamo incominciato ad avere un po' più di attenzione verso i prodotti, dall'alimentazione ad altri, per capire un po' le origini, le materie prime, per una questione di sicurezza non solo nostra, ma anche di impatto ambientale. In particolare poi, nel tempo, abbiamo incominciato a sensibilizzarci sempre di più rispetto alla questione della moda fast fashion, vedendo documentari, seguendo anche vicende che comunque ci hanno molto colpito, come l'episodio di Rana Plaza, il crollo dell'industria in Bangladesh nel 2013. E abbiamo incominciato anche noi ad aprire i nostri armadi e a renderci conto che tutto quello che era lì all'interno non era sempre di ottima manifattura. Però abbiamo incominciato a guardare le etichette e a rendere conto di quanto all'interno dei prodotti che noi indossavamo c'erano molti materiali di origine comunque sintetica, di origine di petrolio, come il poliestere, l'acrilico. Quindi anche magari abbigliamento reclamato come di pura, non so, lana. All'interno in realtà c'era un 20%, un 25% di materiale sintetico. E poi se abbiamo incominciato a guardarci un po' attorno nella nostra città e ci siamo resi conto che mancava un negozio dove poter fare degli acquisti di questo genere. Quindi un acquisto di abbigliamento più naturale e più sostenibili. L'unico riferimento poteva essere l'online. Ci siamo detti perché non partire noi con questo discorso. E così è nata questa piccola realtà. C'è stata prima ovviamente una ricerca rispetto a brand che ci permettessero di avere soprattutto delle certificazioni. Perché questo? Perché chiaramente ci danno una garanzia intanto a noi per primi di come vengono prodotti, con che materiali vengono prodotti questi capi di abbigliamento e di conseguenza anche dare una garanzia poi all'utente finale. Quindi ricerchiamo esclusivamente capi che riportino delle certificazioni, che ci diano garanzia dell'uso di sostanze non dannose per l'ambiente e anche per noi. Perché non dimentichiamoci mai che quello che indossiamo è la prima cosa che va a contatto con la nostra pelle. Quindi avere addosso dei materiali dannosi, sintetici, non fa bene a noi per primi. Ci garantiamo con queste certificazioni che ci siano appunto dei processi di recupero di acque o di non impatto ambientale, quindi con tinture dannose, con sostanze chimiche dannose per l'ambiente e anche una garanzia del non sfruttamento di chi lavora dietro a voi questi abiti, quindi che ci siano dei lavoratori che abbiano degli stipendi adeguati a quello che fanno. Quindi la Glass Constance Store è questo, questo piccolo contenitore, una piccola realtà. Ma il nostro concetto sarà questo. Quindi noi lavoriamo esclusivamente con prodotti che abbiano delle origini naturali certificate o che abbiano comunque un principio di economia circolare. Quindi potete trovare anche dei prodotti di recupero, perché anche questo aspetto è un aspetto che a noi piace molto. Non pensare che il rifiuto sia una cosa da buttare, da dimenticare, ma che si possa sempre in qualche maniera recuperarla per portarla a nuova vita, a un nuovo prodotto. Se ti incuriosisce questo aspetto, questo atteggiamento, o se anche tu hai incominciato ad avere qualche dubbio su quello che indossi e in qualche maniera la tua coscienza sta diventando più sensibile all'argomento, vienici a trovare qui a Bari, in negozio. Ci possiamo fare anche due chiacchiere, confrontarci su quello che è la nostra offerta di abbigliamento e di accessori. Se non l'hai già fatto, iscriviti anche al canale, perché continueremo a creare dei video contenuti rispetto ai prodotti stessi, quindi ti parleremo anche di queste fibre che si stanno proponendo nel campo appunto dell'abbigliamento. Metti un like e a presto, ciao!